E tutti questi libri, senza eccezioni, prendono spunto dal pregiudizio di un'origine celtica del mito. Ma non ci sono prove storiche a riguardo e tali congetture nascono solo dall'ambito di alcuni circoli culturali francesi. Se consideriamo con attenzione la localizzazione geografica delle avventure dei cavalieri di Re Artù, una nuova interpretazione viene spontanea alla mente. Effettivamente tutti questi luoghi erano ben circoscritti alla Bretagna, dove Giulio Cesare sconfisse la potente flotta dei Veneti. Inoltre, nel nord del Galles erano limitati alla Venedottia, secondo Jean Marcal, un antico e stabile insegnamento dei Veneti, e della che erano limitati anche al vent, nel Galles meridionale, ove i Veneti approdarono, secondo l'illustre storico navale Philip Rambury.